Ciao amici del canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un programma della Tenorshare, Tenorshare Boot Genius. Scusate intanto i capelli che sono un po' così, un po' a caso, ma ci piace, ci piace. Tenorshare Boot Genius è un programma che ci permetterà di creare un supporto per l'avvio di PC, quindi sistemi operativi Windows, sostanzialmente, quando un PC non si avvia, non parte. Cioè, se un PC è rotto e quindi non avete un OS su cui farlo girare, voi create un supporto di installazione con Boot Genius, per esempio su una chiavetta, su una chiavetta di fatto, lo inserite nella porta USB del computer che non parte e con quella roba lì il computer parte. Quindi direi di saltare i convenevoli che abbiamo già fatto fin troppo. Ah no, giusto, ultima cosa, prima cosa prima di iniziare. Iscrivetevi, ovviamente, e attivate la campagna delle notifiche, lasciate anche like al video se il video vi torna utile e magari condividetelo pure con i vostri amici, perché no, amiche o parenti o parente o parentes, parentes, tutti parentes, in modo da farlo arrivare a più persone possibili. E il like, beh, per dimostrarmi tutto il vostro supporto e per aiutarmi anche con YouTube che si sa consigli dei video che piacciono di più, ecco. Ok, andiamo subito al PC e iniziamo, si dimostra un po' come funziona questo programma. Ok, eccoci arrivati al computer, siamo sulla pagina di BootGenius per scaricarlo. Allora, vi lascerò nella descrizione sia il link per scaricare direttamente BootGenius sia il link della guida dove potete leggere praticamente come fare l'installazione e come effettuare insomma tutte quante le operazioni. Per correttezza io vi dico già da subito che il programma è disponibile in una versione gratuita che è quella che vi mostrerò come scaricare oggi, sia anche in una versione a pagamento con delle licenze che hanno questi costi che poi, vabbè, andiamo a approfondire a fine video e vi anticipo che c'è uno sconto in corso in questo momento. Andiamo a fare subito il download. Lo installo con voi, chiaramente l'ho già provato per verificare che funzioni. Come vedete il programma è ottimo per riparare problemi per esempio di schermata nera del computer o blu o come vedete quando ci sono questi fastesiosissimi errori di Windows o quando magari lo state configurando oppure riavviando o resettando. Inoltre è anche possibile recuperare i dati da rischi rigidi non avviabili oppure effettuare semplici backup, ripristini e gestione delle partizioni. Per correttezza vi dico anche che oggi io vi mostrerò non come funziona la versione gratuita ma come funziona la versione con tutte le funzioni sbloccate cioè ho praticamente un programma fornitomi dall'azienda che mi consente di andare a esplorare tutte e quante le varie opzioni. Una volta cliccato il download dobbiamo semplicemente cliccare sull'accettazione del contratto e cliccare su installa. L'installazione è veramente molto molto rapida e una volta fatto vi basterà cliccare su iniziare. Come vedete la grafica è molto ben fatta, molto intuitiva e anche molto carina, navigabile. Qui abbiamo per esempio una guida integrata direttamente molto comodamente nell'applicazione su come eseguire l'avvio da un'unità USB per un computer che non si accende. Come vi anticipavo già nell'introduzione infatti è proprio possibile andare a configurare dei sistemi operativi, degli iOS, Operative Systems, su computer che per esempio non hanno un sistema operativo all'interno oppure ce l'hanno ed è corrotto. Quindi non funziona. Possiamo anche direttamente andare a risolvere problemi di Windows sul computer corrente e ora vi mostro un po' insomma come funziona. Prima però vado ad attivare il mio programma, registrare il mio programma completo. Quindi ho inserito la mia mail e il mio codice di licenza. Questa è la stessa procedura che dovrete fare se acquistate la versione Pro e clicco su registrati. Ok, la registrazione ora è completa e ho sbloccato il programma con tutte le funzioni. Quindi allora praticamente qui vi dice che cosa è possibile fare. Non si tratta di pulsanti, questi qui sono soltanto di quadri informativi e potrete fare soltanto una cosa, ovvero creare il disco di avvio. Prima di farlo però vi mostro un po' il menu, ovvero abbiamo una possibilità qui di acquistare la versione Pro, la gestione dell'account, il cambio di lingua, sono disponibili lingue tra cui italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese insomma tutte le lingue europee per eccellenza più il supporto. Quindi abbiamo una schermata dove possiamo richiedere assistenza nel caso in cui avessimo delle domande insomma sul programma, potete lasciare ovviamente anche un commento e abbiamo un modulo di contatto diretto qua che possiamo usare per entrare in contatto con la casa produttrice e abbiamo anche i logs, quindi la possibilità di andare a trovare i log del programma per per esempio inviarli all'assistenza nel caso in cui qualcosa andasse storto e abbiamo anche la possibilità di fare un check degli aggiornamenti per vedere se il programma non è aggiornato e quindi scaricare le ultime versioni. Nel nostro caso ovviamente l'ho appena scaricata quindi mi dice che è l'ultima. Qui abbiamo un pulsante di feedback, quindi possiamo praticamente inviare un feedback all'azienda una restituzione sul funzionamento del programma piuttosto che una richiesta di assistenza vedete in quale programma ti imbatti quando usi questo prodotto ecco clicchiamo su crea il disco di avvio e una volta fatto praticamente ci dirà subito quale sistema operativo vogliamo correggere, quindi quale è il sistema operativo che vogliamo installare. Nota importante è che nella maggior parte dei casi questa procedura ci permette di non perdere i dati. Ok, ad esempio abbiamo un Windows 11, quindi l'ultima versione che ha la schermata nera per 64 quindi a 64 bit come tutti praticamente i sistemi operativi per Windows 11 nemmeno è disponibile la versione a 32 bit per 86. Clicchiamo sull'unità USB dove vogliamo flashare praticamente il sistema operativo e clicchiamo su prossimo. Qui ci dirà che l'unità verrà formattata quindi dovremo cliccare su continua per dargli l'autorizzazione a farlo. Ok, per esempio io vado a selezionare questo disco General Udisk clicco su prossimo e gli dico continua per effettuare praticamente la creazione del supporto di installazione per Windows 11. Come vedete è molto facile, lui scaricherà direttamente la ISO originale dai server Microsoft e creerà l'ambiente di riparazione. È anche veloce, qua va a 86 MB al secondo, io ho una fibra ottica ma di sua è veloce e adesso sta creando il disco di avvio. Come vedete anche qua è abbastanza veloce. Se avete mai utilizzato il Media Creation Tool sapete benissimo che queste procedure richiedono molto tempo anche fino a un'ora di tempo per creare un'unità di avvio. Lui non va semplicemente a creare un'unità di avvio. La particolarità di questo programma è che crea un'unità di riparazione, non di avvio. Quindi l'avvio è possibile grazie a quest'unità ma è possibile anche riparare i file di registro corrotti di un computer che ha delle anomalie, quindi che non si accende, che mostra delle schermate blu, che va nel firmware quando lo accendi, nel BIOS. E quindi questa cosa risolve molti problemi. È un programma, tra l'altro, ho guardato un po' su internet, che è in circolazione da circa 10 anni e che da 10 anni è utilizzato dalle persone come voi per appunto creare questi supporti di avvio sicuro dei computer corrotti. Ok, perfetto, abbiamo completato la creazione del disco di avvio. Come vedete ci dice, segui i seguenti passaggi per riparare Windows. Passo 1, inserisci il disco di avvio nel computer in cui è necessario riparare il sistema, cioè come vi dicevo nell'intro dovete semplicemente ficcare dentro la chiavetta USB. E passo 2, devi praticamente accendere il computer, quindi se il computer quando lo accendi mostra la schermata nera, tu lo spegni, una volta spento lo riaccendi e praticamente ti dovrebbe arrivare, ora comunque vediamo nelle immagini, un elenco di boot. Boot sarebbe praticamente dischi che noi possiamo selezionare per avviare il computer e dovete selezionare quello che avete creato con questo programma qua, FordiDig Windows Boot Genius. Cliccate su Visualizza Tutorial Dettagliati e come vedete ci sono tre passaggi che dobbiamo fare. Quindi per esempio qua abbiamo delle chiavi di avvio, quindi se c'è una schermata nera, per esempio su un Dell dovete cliccare ESC, quindi premere l'opzione di avvio appena accendete il computer e si aprirà il BIOS con il selettore, come vi dicevo. Nel secondo passaggio troverete un elenco di opzioni, come vi dicevo prima, e dovete cercare il disco tra i nomi dei cd, delle chiavette inserite. Io vi consiglio proprio per questo di staccare qualsiasi supporto USB dal computer che volete riparare, quindi lasciare soltanto quella chiavetta lì, così esce soltanto un'opzione. O nel caso comunque ne uscisse più di una, che in realtà è probabile perché avete, cioè sicuramente ne esce più di una perché ci sono gli harddisk interni, voi dovete semplicemente cliccare sulla voce che, ecco aspettate vi faccio vedere questa immagine, dovete cliccare sulla voce che avete creato come partizione. Qui nel terzo passaggio invece visualizzerete questa finestra del programma, quindi si avvierà il boot di questo programma qui e dovrete seguire le operazioni che ci sono mostrate a schermo per riparare il computer che non sta funzionando. Adesso vedo se riesco a passare questo programma su un altro computer. In questo momento non ho un computer su cui fare questa procedura, però vi faccio vedere insomma come è possibile effettuarla una volta che avete fatto il boot con la chiavetta. Come vedete qui c'è praticamente questo menu che si chiama centro di soluzioni, dove potete semplicemente cliccare su riparazione automatica per far individuare al programma di Boot Genius i problemi con l'avvio e risolverli autonomamente. Qui dovrete cliccare quindi in questo menu il disco dove è inserito il sistema operativo, quindi se come nel nostro caso abbiamo creato un sistema di supporto per Windows 11, io vado, vuol dire che avevamo nel vecchio computer un Windows 11 che non andava, e selezioniamo, in questo caso dovremmo selezionare local disk C, come vedete ha il logo di Windows ed è formattato in NTFC, che è il format di, il data format di Windows. Lo cliccate e cliccate su inizia a riparare. Una volta effettuata la riparazione uscirà un log, quindi dovrete riavviare il computer tramite questo tasto e il computer dovrebbe funzionare correttamente. Come vedete qui è anche possibile, per esempio, se vi viene mostrata una password che non vi ricordate, effettuare il reset della password di default. Qua c'è tutte le opzioni che potete effettuare, insomma, e potete praticamente cliccare Remove Windows Password, cliccare su Next, e qui praticamente usciranno gli steps che dovrete effettuare per rimuovere il log on del computer. C'è anche la possibilità di effettuare il recupero della chiave di licenza del programma, dell'OS, scusate, quindi cliccate su Avvio, da questo menu qui, Software Recupero Chiave, e qui praticamente vi mostrerà le license keys che avete dei vari sistemi operativi installati in precedenza sul computer. È anche possibile effettuare un recupero dei dati persi nel caso in cui avete, per esempio, danneggiato la partizione che avete recuperato, e semplicemente cliccando su Recupera ora verrà avviato uno strumento automatico di recupero. Dovrete chiaramente selezionare il disco, come prima, dove dovete recuperare i file, e cliccare su Inizia. In Backup e Ripristino potete, per esempio, andare a fare un backup delle partizioni per recuperare i dati persi a causa di varie situazioni, come dice qui, e vi basterà per gestire le partizioni, cliccare su Avvio, e come vedete qui vengono anche con dei colori sgargianti, mostrate le partizioni di Windows, cioè della vostra macchina, che potrete andare a visualizzare, recuperare, e penso sì, esattamente, riformattare e cambiare appunto le proprietà nel caso in cui non dovesse funzionare. Una piccola indicazione, ovvero Windows va installato su NTFS, no, scusate, NTFS, e praticamente, quindi, se avete il disco formattato in, per esempio, FAT32, questo non va bene, o peggio ancora in XFAT, dovete riformattarlo in NTFS, l'ho detto in italiano questa volta, però state attenti, perché così facendo, cambiando il, come si chiama, il file format, dovete praticamente fare il reset del disco, quindi perdete tutti, tutti i dati. Mentre la forza di questo programma è proprio che vi permette di effettuare una riparazione del computer con la schermata nera, senza necessariamente dover perdere tutti i dati, ma dovete mettere in conto che questa è una possibilità, perché nel caso in cui, appunto, abbiate il computer corrotto. Se volete scongiurare l'ipotesi di perdere dei dati, quello che io vi consiglio personalmente di fare, oltre a Boot Genius, è di rimuovere gli hard disk, dove avete i dati salvati. Quindi, mettete che avete un SSD e un hard disk, sull'SSD ci avete messo sull'OS, mentre sull'hard disk i dati. Prima di effettuare questo tentativo con l'unità di salvataggio qua di Boot Genius, togliete l'hard disk, staccatelo, e vedete se potete leggerlo con... esistono su Amazon, magari ve lo lascio in descrizione dei lettori per le porte SATA, USB, per leggere, appunto, gli hard disk tramite USB, prima, appunto, di eventualmente usare 4DDiG Windows Boot Genius. Come promesso, vediamo anche i piani a pagamento. Come vedete qui, abbiamo uno sconto abbastanza importante. C'è sia per personal sia per business, quindi se, per esempio, abbiamo un negozio di assistenza, prima di portarlo in assistenza, se siamo dei privati, possiamo comprare una licenza e provare lo strumento. Poche storie, c'è bisogno della licenza a pagamento, perché altrimenti molte di queste funzioni non le avete, quelle che vi ho fatto vedere. Non costa tantissimo. Quella più economica che potete comprare, Big Save, come vedete, un grande risparmio, è a 18,95 tasse escluse. Tenete conto che io credo che, secondo me, se non funziona, questi pure vi rimborsino. Quindi... Bene, io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia tornato utile, soprattutto, e vi ricordo che potete lasciare un commento per qualsiasi esigenza, necessità. Io ci sono, quindi rispondo sempre a tutti quanti. Lasciate un commento e appena lo leggo ho un attimo di tempo con l'università, eccetera. Non ho mai tempo, ma a parte questo, rispondo sempre ai commenti. Comunque, lasciate un like ancora una volta, iscrivetevi, attivate la campanella, perché così mi supportate e non vi perdete anche i prossimi video. Ho presto intenzione di fare un video piuttosto interessante su un modo per guadagnare soldi facili, quindi, perché no, perché no, è un argomento che so che vi interessa. D'accordo? È stato un piacere, trovate tutti i link nella descrizione, quindi i riferimenti. Noi ci vediamo alla prossima. Da Ticchero Music Evolution è tutto. Un saluto. Ci vediamo al prossimo video.